Possiamo dire che si è consumato il primo atto nelle tappe di avvicinamento insomma al Consiglio Comunale che dovrà discutere dell'accordo stadio. Come si è chiusa questa capigruppo? La capigruppo serve a, come da regolamento, decidere gli argomenti e le date per ogni Consiglio Comunale. Abbiamo, nel momento in cui sono pervenuti tutti i documenti, deciso, ovviamente su indicazione anche degli uffici e dell'assessorato specifico, la data del 30 settembre per approvare o meno la convenzione e quindi la transazione legata allo stadio Bonolis. Quindi il ritorno allo stadio Bonolis dal gestore privato al comune di Teramo. Si tratta di un atto molto importante che richiede sforzo importante anche da parte dell'amministrazione comunale e quindi delle sue risorse, ma è una questione molto seguita dall'opinione pubblica oltre che dal mondo dello sport. In questo modo si sanano comunque delle tensioni ma anche delle difficoltà amministrative e di rapporti che vanno nella direzione di risolvere problematiche annose. Quindi la capigruppo ha fissato questo Consiglio Comunale per il 30 alle 15, ovviamente il Consiglio è aperto, cioè questo punto all'ordine del giorno è un secondo che è un passaggio obbligato per legge, l'approvazione del bilancio consolidato. Il Consiglio ha anche una seconda convocazione, eventualmente non dovessimo avere il tempo necessario per completare la discussione, ma insomma tutti i consiglieri comunali sono informati della vicenda e tutta anche la collettività perché, ripeto, l'opinione pubblica e la stampa quotidianamente da mesi parla di questa questione, poi è una questione molto chiara insomma, e noi siamo chiamati ad approvarla. Il sottoscritto e anche gli assessori fino alla fine si sono impegnati affinché questo atto possa essere il più completo e regolare possibile, perché comunque si tratta di risorse pubbliche e di beni pubblici che vanno gestiti in maniera inercepibile. L'opposizione contesta questa tempistica? L'opposizione legittimamente ha chiesto più tempo, noi non abbiamo violato nessuna norma regolamentare, il regolamento prevede dieci giorni di tempo per ricevere la documentazione, sette giorni prima la commissione che discute e quindi con il materiale già ricevuto da tutti i consiglieri e appunto al decimo giorno il consiglio comunale che viene convocato una settimana prima. Credo che, essendoci un materiale enciclopedico da esaminare, se addirittura pensiamo che in Parlamento per approvare la finanziaria i parlamentari a dicembre negli ultimi anni non ricevono nemmeno più il testo, non votano al buio, io penso che su un argomento del genere un consiglio comunale dieci giorni siano... ma abbiamo rispettato i tempi del regolamento, su questo non c'è alcun dubbio. Poi il consiglio è sovrano, boccia, rinvia, decide, approva, si astiene, si svolgerà il consiglio, ci sono i tempi della discussione regolamentati per gli interventi, insomma è una questione, ripeto, che viene svolta pieno della regolarità, ci sono i pareri dell'avvocatura interna, i pareri del collegio dei revisori e i dirigenti che hanno sottoscritto ogni tipo di materiale, quindi insomma non mi sarei mai avventurato in qualcosa di incompleto e incerto.